da quando avevo dieci anni che vengo allo stadio con mio padre mi diverto una bella cosa una bella passione condividere con lui le emozioni positive e negative insomma quando si vince chiaramente positivo quando si perde non tanto positive però comunque è sempre un divertimento un'emozione una bella cosa si mi ha detto mi ha portato una volta poi da quella volta sono venute tantissime altre volte beh sicuramente un'altra atmosfera è di vivere quello che la gente vive intorno comunque la partita vada insomma è sempre bello venire qui mi chi mi ha permesso questa questa passione questa voglia ma andiamo avanti a ruota libera adesso non ci siamo dati un limite si va grazie a tutti grazie a tutti